Soldato Trinchillo Domenico, Fubiaggio, da Calvizzano Napoli, classe 1895. Apparteneva al diciottesimo reggimento artiglieria da campagna come esploratore. Prese parte all'azione di combattimento di Monte Saibusi, Monte Gorizia, Ronchi, trasferitosi volontario alla 46esima batteria Bombardi, prese parte alle azioni del Trentino, Cima 11 e 12, Montefiore, Carso, Oppacchiosella, Castegnevizza, Monte Cappuccio, Occupazione di Gorizia, riportava una ferita alla coscia sinistra da una pallottola di Snapnell all'azione di Orticara il 13 giugno del 1917, Croce di Guerra, Campagna, 1915-18, Unità d'Italia, Terza Armata, Medaglia d'oro a Valor Militare, Gran Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.